Le forze politiche del centro-destra di Albino, Lega Nord, Forza Italia e la lista Civicamente Albino comunicano ufficialmente di aver concluso un'alleanza sulla base di un accordo di programma condiviso per le prossime elezioni amministrative, esprimendo come candidato sindaco della coalizione Fabio Terzi della lista Civicamente Albino. In un comunicato sottolineano che è un'alleanza frutto di un serio lavoro che da anni le tre forze di centro-destra stanno svolgendo, dando voce alle istanze e ai problemi dei cittadini sulla base di un preciso programma finalizzato a rilanciare l'intero territorio comunale. Fabio Terzi, 42 anni, imprenditore del settore meccanotessile, con una laurea in lettere antiche con indirizzo archeologico, ha un recente trascorso come consigliere capogruppo della Lega Nord ed è attualmente consigliere di minoranza della lista Rizzi. Ha deciso di raccogliere la sfida presentandosi come unico candidato per tutta la coalizione di centro-destra con il sostegno anche di una lista civica che sarà esclusiva espressione dei cittadini della Valle del Luio. Sarà dunque lui lo sfidante principale del sindaco uscente Luca Carrara che godrà ancora del sostegno delle liste civiche per Albino e per la Valle del Luio, ma anche di Partito Democratico e SEL che pur avendo rinunciato ai simboli di partito sono rappresentati nella squadra. Ci sarà poi il Movimento 5 Stelle che, come abbiamo già riferito, effettuerà a breve una selezione online degli aspiranti a sindaco e a consigliere comunale.